A 35 anni ed è residente a Udine, a M le sue iniziali, l'uomo che lo scorso 22 giugno aveva coltellato un cittadino dominicano all'esterno di un pubblico esercizio in via Roma. Dopo il fatto era fuggito lasciando la città e rifugiandosi altrove. Contattato poi dagli investigatori era stato convinto a presentarsi presso gli uffici della questura per chiarire la sua posizione. L'uomo si era dunque costituito accompagnato dal suo avvocato nel primo pomeriggio di lunedì 24 giugno ed era stato ascoltato dagli inquirenti. All'origine del fatto di sangue ci sarebbe stato un regolamento di conti. Il 39enne dominicano era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'attività di indagine svolta, coordinata dalla locale procura della Repubblica, ha permesso di raccogliere importanti elementi di colpevolezza circa l'autore dell'accoltellamento che dalla mattina del 28 giugno è agli arresti domiciliari come da ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Udine. Dovrà rispondere di lesioni aggravate dall'uso di un'arma.